Com'è stato questo impatto con il popolo sionese e con i contradaioli? Emozionante e anche entusiasmante. Mi sembra che abbiano apprezzato o no? Ma non lo so, penso di sì. Non lo sa? Non sa valutarlo? Penso di sì. Ci racconta un po' la genesi di questo palio, come è nato, dove è nato, perché così? E ho ricevuto il mio studio a New York, quindi ho ricevuto questa seta del palio, della quale mi sono innamorato. E quindi volevo mantenere anche l'integrità della seta, del supporto, quindi l'ho dipinta con la maggiore leggerezza possibile, anche perché abbiamo bisogno di leggerezza, penso di tutto.